Ciao Gassuoli, subito un altro video dopo la voce dei tifosi perché volevo approfondire un tema, un tema che ho trattato nella voce dei tifosi ma richiedeva un approfondimento specifico, anche in vista del fatto che dopo la vittoria dell'Inter è ancora venuto fuori gravemente questo tema. Ebbene, io l'ho intitolato il Milan degli inconsolabili perché mi sono rifatto al concetto della classica vedova inconsolabile, avete presente i film di Fantozzi? Adesso mi pare forse Fantozzi, beh Fantozzi è meraviglioso ma se non sbaglio Fantozzi subisce ancora, non so, quella del, o no, forse contro tutti, quella della corsa ciclistica, quando muore il vice direttore galattico e viene Balaban, quello che gli fa fare la corsa ciclistica, prima c'è il funerale e c'è Fantozzi che becca una signora che sta piangendo davanti a una tomba che poi li salta addosso e piange, piange e non si stacca più, piange continuamente e lo travolge in questo pianto infernale inconsolabile finché Fantozzi a un certo punto tira due schiaffoni e un pugno in pancia la stende e la lascia lì, poi passa Filini questa risalta addosso, Filini e piange, ebbene, io vedo che siamo davvero sommersi da vedove inconsolabili, inconsolabili cosa? Che straziate dal dolore di essere prima in classifica, cioè ci rendiamo conto? Io lo ripeto, straziate dal dolore di essere prima in classifica, almeno fino a domani, poi si vedrà. Ripeto, straziati dal dolore di essere prima in classifica. Il tema è semplice, è al tempo stesso complesso. Nel Milan c'è una fanbase, chiamiamola così perché non la vedo ancora come tifoseria, perché ha degli elementi troppo isterici, troppo umorali, per quanto il tifoso debba essere umorale per certi versi, ma tu puoi essere umorale su, come si può dire, il tuo sentore su quello che accade legato al Milan, no? Ma non nel sentimento verso il Milan, questo non può essere umorale, allora è ancora un amorino, non è un tifare vero, no? Che è un grande amore. Dobbiamo capire perché. Io ho sempre detto che parallelamente al processo di crescita della squadra, che è indubbio, anche i tifosi del Milan dovranno crescere. Dovranno crescere a imparare a sostenere la squadra a prescindere e a capire il loro ruolo, che è un ruolo fondamentale col tifoso. Non è solamente quello che va a comprare, cioè il ruolo del tifoso non è solo economico per la squadra, ma può essere davvero parte della squadra, andando a tifare, trasmettendo un buon feeling, come si suolte i termini inglesi, alla squadra stessa, facendo percepire alla squadra stessa di essere protetta e amata e dando fiducia che adesso alcuni giocatori non hanno ancora la consapevolezza di quanto sono forti. Ma se un calciatore del Milan dovesse andare su un cazzo di social e legge tutti questi pianti, come si deve sentire? Domani, secondo voi, va più tranquillo a Torino a giocare? Leggendo, eh, sono spacciati, l'Inter ha vinto, non ce la facciamo più, col Torino perderemo, bla 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 bla. Un giocatore del Milan, anche magari lì lì, anche lui in tensione per la partita, va sui social, fischia, si tocca i coglioni sedici volte. E diviene, cioè, come quando, non so, vediamo, adesso c'è, mi è capitato, non lo faccio più, perché per alcune cose, non in ambito di tifo, ma lo so anch'io, c'è stata la questione, chiaramente, con dovuti parallelismi, dovuti proporzioni della guerra in Ucraina, se uno dovesse mettersi a vedere tutti i giorni quello che esce dal dibattito televisivo, si, si spara in testa, si, si compra, che io l'ho già fatta, pensate come sto messo, si compra magari il kit di sopravvivenza, mi sono fatto lo zaino, il bug out bag, quella che prendi e scappa, io lo sono fatto anch'io, lo confesso, proprio perché, ma quando è che mi è venuto questo impulso di farmi la bug out bag con dentro le robe essenziali, i kit di sopravvivenza, il cibo, dico, il sabario, i bombardamenti, prendo e scappo. Quando mi sono messo a vedere sui social e sui posti tv, quello che commentavano della partita in cui, della partita, perdono, della guerra in cui sostanzialmente ti viene da metterti le mani nei capelli, che non ho. Ugualmente, se un giocatore di Mian dovesse guardare la tv, che già sappiamo che i media non sono dalla nostra, e i social, prenderebbe la valiglia e scapperebbe da Milanello, oddio, è caduta la, avete, il tremore, timore, tremore, come direbbe Kierkegaard, prenderebbe la propria valiglia e scapperebbe da Milanello, scapperebbe da Milanello. Il tema, credo, derivi dal fatto che siamo, per chi è iniziato da poco da tifare, stiamo parlando di tifosi traumatizzati. La verità è quella. Non sto scherzando, sembra una roba, una roba ridicola, ma non lo è così. Così come nei traumi, dopo tu hai difficoltà a vivere la realtà, perché nello dove ci si vengono riproposte determinati trigger, tu tendi poi chiaramente a avere una difficoltà, una risposta automatica a livello psicologico che ti porta ad avere agitazione, ipotizzo, non so, hai avuto, ti ha, so, ti ha, ipotizzo, molto, questa è proprio filosofia spicciola. Nei, scusate, chiudo telefonata, hai avuto, insomma, alle mei ti picchiamo, mi vengono i capelli rossi, ogni volta che vedi qualcuno con i capelli rossi, ti tremano le gambe. Ecco, molto spicciola. Qualmente noi vediamo da anni e anni di, presa per il culo da parte delle altre squadre, è vero, delusioni sportive, Milan che ha tradito le aspettative, dirigenza che ci ha preso spesso in giro, e se uno non ha la conoscenza del Milan vero, di quello che era il Milan, è un Milan in cui si ritrovava in campo i Constant, gli Honda col numero 10, i Birsa, il doppio amministratore delegato, faccio lo stadio al quartiere, il portello poi non lo si fa più, fidatevi di Yong Gong Li e poi Yong Gong Li se manco chi cacchio è, ogni anno ha di fatto vivere una carneficina emotiva, posso capire che adesso che se hai piani alti, guardi giù, ti viene il terrore. Ti viene il terrore, quindi alla prima visaglia, come può essere tra virgolette un piccolo passo falso, di un qualcosa che ti risuona come i passi falsi innumerevoli che Milan faceva un tempo, e betti a quel punto tutti i fantasmi, le frustrazioni, i dolori, le ansie, non avendo tu conosciuto altro Milan, ma solo quel tipo di Milan, probabilmente riescono fuori, è un discorso che facevo anche ieri col Tringa. Io credo che sia dovuto a questo, dovuto al fatto che abbiamo una fanbase traumatizzata, non tifosi, una fanbase, poi ente quelli più giovani, giovani con 50G, che è traumatizzata. E la mia idea è, ai tifosi, così come nella squadra, i giocatori batturi devono portare avanti quelli più insicuri, ugualmente noi tifosi un pochino più agé, che abbiamo vissuto anche le vittorie del Milan, grazie a Dio, anche se ormai si parla di tanti anni fa, ciò nonostante il Milan rimane la squadra più gloriosa d'Italia, è una della più gloriosa del mondo, pensate un po', nonostante negli ultimi dieci anni abbia praticamente non vinto niente, ciò nonostante è ancora la squadra più vincente d'Italia, è una delle più vincenti del mondo. Ebbene, noi dobbiamo portare avanti, dare fiducia, portare per mano questa fanbase al tifo. E quindi io mi prodigherò, anche attraverso questo canale, nel dire ai ragazzi che magari si vuole in Milan, quelli non troppo avanti con l'età, di avere fiducia nel Milan, di lasciare che il cuore vada oltre l'ostacolo, tifate, non potrà andarvi male, non è più, non c'è più quel Milan lì, non c'è più, anche se non dovesse vincere il sudetto, non vi rivedete più quel Milan lì. Siamo una squadra che ormai è rispettata, una squadra che si è rilanciata, una squadra destinata a rimanere nelle zone alte del calcio italiano e in futuro, secondo me, anche di quello europeo, nei prossimi anni. Lo dico, non ho paura a dirlo. Abbiate fiducia, altro non so dirvi, e mettetevi almeno nell'ottica del calciatore che, aiutate lui, se non volete ascoltare me, ascoltate i giocatori del Milan, non fate di leggere tutte queste depressive, come si può dire, depressive, tragiche, sfogate, che non hanno senso di essere. Ok? Dieci minuti di video alla fine è venuto fuori, va bene. Vi ringrazio come sempre, e domani, tra l'altro, domani giornata importantissima, farò bene. Good morning Milan, poi si ritorna in sella con la partita, in particolare, stavolta che riesco a farle, farò una live, segnatevelo se vi può interessare, una live per commentare il primo tempo. Noi ci facciamo una live a cavallo tra il primo e il secondo, per 5-10 minuti, non di più. Una live veloce per dire le impressioni, le mie impressioni del primo tempo, e anche per leggere le vostre. Quindi sarà una live molto veloce, giusto il tempo di intervallo per poi tornare a Tiffra Milan. Vi saluto, ciao! Grazie.